I ragazzi del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti al Parlamento e al Senato hanno scoperchiato la scatoletta di tonno delle istituzioni italiane. Il 25 maggio tocca a noi scoperchiare la scatoletta di tonno del Parlamento europeo. Mi chiamo Isabella, 36 anni, laurea in conservazione dei beni culturali con un indirizzo in archeologia classica. Ho iniziato nel meetup di Salerno. Purtroppo, come tanti miei colleghi, per trovare lavoro sono dovuta ad emigrare. Adesso vivo a Bruxelles alcuni anni. Precedentemente ho vissuto a Lisbona un anno. Parlo inglese, parlo francese e studio orlandese perché la lingua ufficiale a Bruxelles ha pari del francese. Ora faccio parte del meetup di Bruxelles. Noi vogliamo portare le stelle del Movimento e quindi tutto il suo programma anche in Europa. Dobbiamo lavorare per portare trasparenza e informazione ai cittadini. Se ci pensate, fino ad ora siamo venuti a conoscenza delle decisioni prese dall'Unione Europea quando i giorni sono già fatti, quando i trattati sono già firmati, quando le decisioni sono già prese. Basta, non è più possibile. È ora di portare trasparenza anche qui. È ora di scandinare la casta europea che è un'origarchia mossa da lobby e da interessi finanziari. Fare entrare i cittadini al Parlamento Europeo vuol dire finalmente fare luce sul mondo che fino ad adesso è rimasto oscuro, estraneo. Abbiamo pesantemente subito, basti pensare all'euro. Anche perché chi ci ha rappresentati fino adesso, i partiti, erano i trombati della politica e non avevano nessuna motivazione reale se non quella di aggiungere un stipendio in più. I ragazzi che entreranno avranno un compito estremamente difficile ed è per questo che dobbiamo essere tutti uniti. Dobbiamo estendere la nostra rete il più possibile. Vinciamo noi, arrivere le stelle.